terza volta questo video, questa volta ho metto sugli occhiali che magari porta fortuna perché per un motivo o per l'altro ho dovuto o interrompere o rifarlo eccetera adesso c'è il cane che piange, speriamo che non rompa più di più, anzi le apro la porta allora, dunque, negli scorsi video siamo passati siamo passati dai numeri a spiegare qual è il passaggio dai numeri relativi ai numeri razionali cioè le frazioni, cioè quando non si poteva fare una divisione, quando non si può fare una divisione tra numeri interi, 1 diviso 3, cosa si scrive? 1 terzo, 2 diviso 3, 2 terzi, 1 diviso 5, 1 quinto e abbiamo introdotto le frazioni come numeratore e denominatore, numeratore e denominatore, numeri interi come quelli che si chiamano appunto i numeri razionali ok? allora, adesso, ah, nello scorso video, oltre a questa presentazione vi ho fatto vedere quando due frazioni si chiamano equivalenti la proprietà invariantiva, cosa si può fare in una frazione moltiplicare o dividere il numeratore e il denominatore per un qualsiasi numero questo può servire sia per cambiare il denominatore in altri denominatori per esempio il denominatore che è 2 lo posso far diventare un 4, un 6, un 8, un 10 cambio il mio denominatore mettendo un denominatore che voglio io oppure semplificare, ho il numeratore e il divisore, entrambi divisibili per 2, per 3, per 4 faccio questa divisione per 2, per 3, per 4 ok? quindi semplifico la mia frazione grazie a questa proprietà vi ho fatto vedere come si sommano, sottraggono due frazioni vi farò un video, non in questo, in cui vi faccio vedere come si moltiplicano o dividono due frazioni con gli errori più comuni ma in questo vi faccio vedere cosa sono le frazioni decimali come si passa da una frazione ad un numero con l'introduzione della virgola ok? allora vado a condividere il mio schermo eccoci qua allora innanzitutto per definizione una frazione decimale è una frazione che a denominatore ha una potenza di 10 per esempio 31 fratto 10, 100, 1000, 10.000 eccetera eccetera queste sono frazioni decimali le frazioni decimali possono essere trasformate in un numero finito con la virgola ok? allora spieghiamo come si fa questo passaggio con un esempio concreto di solito la matematica è sempre meglio farla prima in via generica e poi si fa l'esempio però questo argomento viene bene così facciamo un esempio concreto invece di prendere 31 prendo 3124 diviso facciamo 1000 allora innanzitutto vi ricordo che questa scrittura di 3124 è una scrittura di tipo posizionale cioè queste cifre 3, 1, 2, 4 hanno significato diverso a seconda di dove sono scritte il 3 qui vuol dire che stiamo parlando di 3 migliaia, 3000 più l'1 scritto lì vuol dire che stiamo parlando di un centinaio il 2 scritto qui vuol dire che stiamo parlando di due decine e il 4 vuol dire che stiamo parlando di 4 unità tutto fratto 1000 allora una somma così al numeratore significa che la stessa frazione la possiamo spezzare cioè dire 3000 più 100 più 20 più 4 diviso 1000 significa avere 3000 fratto 1000 più 100 fratto 1000 più 20 fratto 1000 più 4 fratto 1000 su ciascuna delle frazioni uso quella che è la proprietà invariantiva che vi ho fatto nello scorso video 3000 fratto 1000 divido per 1000 sopra e sotto vuol dire che è un 3 poi 100 fratto 1000 divido per 100 sopra e sotto e questo vuol dire che ho più un decimo poi 20 fratto 1000 divido per 10 sopra e sotto e vuol dire che significa che è come se avessi due centesimi e 4 fratto 1000 vuol dire lasciamolo pure scritto così significa che ho 4 millesimi allora quindi vuol dire che questa frazione equivaleva a 3 unità più un decimo vuol dire un'unità divisa di 10 parti prendo un'unità la divido in 10 parti e ne prendo una parte di queste 2 centesimi vuol dire che prendo l'unità la divido in 100 parti e ne prendo 2 4 millesimi vuol dire che prendo un'unità la diviso in 1000 parti e ne prendo 4 allora invece di scriverlo così cosa si è deciso? cosa si sono inventati i matematici? che invece di scrivere 3 più un decimo più due centesimi la scrittura posizionale usiamola anche dalla parte destra innanzitutto mettiamo una virgola per decidere che tutto quello che c'è scritto dopo non sono unità questa è l'unità magari poteva anche essere che invece se io invece di usare il numero 3000 avessi usato 30.000 questi sarebbero stati 30 magari 30 più un'unità quindi 30 più due unità 32 ma la virgola mi separa quelle che sono le unità le decine, le centinaia da quello che è qualcosa di più piccolo di 1 i decimi li scrivo nella posizione più vicina alla virgola quindi io ho un decimo quindi metto l'uno qua questo vuol dire che il mio numero sono 3 unità più un decimo 2 centesimi il 2 l'ho messo qui nella seconda posizione se non ci fossero stati decimi avrei messo 3,02 e 4 millesimi poi magari può darsi che il numero avesse anche i 10 millesimi 100 millesimi e andavo avanti a scrivere i numeri da questa parte quindi sostanzialmente la virgola significa che sono le unità o le decine cioè il numero intero scritto prima della virgola la virgola vuol dire che quel numero è il numero da cui io partivo era il numero scritto prima della virgola a cui aggiungete questa cifra diviso 10 quindi è come dire io prendo una torta la divido in 10 parti ne mangio una fetta 2 centesimi prendo una torta la divido in 100 parti ne mangio 2 fette prendo la torta la divido in 1000 parti ne mangio 4 fette oppure faccio direttamente la torta divisa in 1000 parti di cui ne mangio 124 fette lo stesso dire un decimo più 2 centesimi più 4 millesimi è come dire 124 millesimi infatti se fate il denominatore comune sarebbe 1000 questo diventa 100 questo diventa 20 e questo rimane 4 quindi 124 millesimi oppure separatele un decimo due centesimi e sono come le storie se questi fossero i metri questi cosa sarebbero i decimetri i centimetri e i millimetri decimetri cosa sono la decima parte del metro centimetri cosa sono la centesima parte del metro i millimetri cosa sono la millesima parte del metro quindi questo è la scrittura posizionale dopo la virgola capite che come io ho fatto per il numero inventato qui su due piedi 3124 fratto 1000 io avrei potuto fare lo stesso discorso per qualsiasi numero per qualsiasi frazione che a denominatore si trova a avere le potenze di 10 10 100 1000 come vedete se si volessero evitare questi passaggi come si eviteranno sempre il passaggio diretto da qui a qui cosa succede come si fa voi contate quanti 0 ci sono al denominatore immaginate la virgola qui e spostate questa virgola di tanti posti come sono gli 0 1 2 3 1 2 e 3 sarà sempre così se volete posso provare con un altro esempio per farvi maggiormente rendere conto della cosa 23 diviso 100 cosa vorrebbe dire fatemi saltare almeno il primo passaggio vorrebbe dire 20 fratto 100 più 3 fratto 100 20 fratto 100 vuol dire due decimi tolgo uno 0 sopra e sotto cioè divido per 10 sopra e sotto più 3 centesimi qui di unità non ce n'erano qui ce n'erano 3 qui niente quindi 0 virgola due decimi tre centesimi se voi guardate c'erano due zeri se partivate da qua dovevamo spostare la virgola di due posti 1 2 virgola qui ovviamente qui bisogna scrivere qualcosa 0 virgola 23 quindi le frazioni decimali si trasformano sicuramente in numeri finiti anche se io mettessi a denominatore un 10 alla un 1 seguito da 10.000 0 10 alla 10.000 io starei lì sposterei la virgola di 10.000 a posti però sarà uno 0 magari virgola 0 0 0 0 0 0 ma il numero che prima o poi finisce allora le frazioni decimali sono solo quelle che hanno denominatore dieci cento mille no perché in realtà ci possono essere delle frazioni tipo due quinti che apparentemente non sono decimali però voi capite il 5 può essere trasformato in un 10 perché vi basterebbe moltiplicare per la famosa proprietà invariantiva sopra questo è come dire moltiplico per 1 no due primi due mezzi e 1 moltiplico sopra e sotto per 2 il numeratore e il denominatore divento un 4 decimi e quindi questo vuol dire 0,4 sposto di una virgola oppure se avessi 7 mezzi io il 2 lo posso far diventare un 10 sì perché moltiplico sopra e sotto per 5 quindi diventerebbe 35 decimi cioè 3,5 e così via allora come riconosco quelle frazioni che possono non possono essere decimali allora come vedete io a 10 ci posso arrivare se ho dei 5 se ho dei 2 se io denominatore avessi un 7 un 7 10 non lo diventerà mai perché 7 lo posso a meno che non semplifico vabbè se sopra avessi avuto 14 allora 14 7 mi semplifico ma in una frazione già semplificata il denominatore un 7 un 7 10 non lo diventerà mai un 7 può diventare 14 21 28 i numeri che nella tabellina nella loro tabellina hanno 10 sono il 5 e il 2 quindi riassumiamo come possiamo capire se è una frazione decimale o no se il denominatore ha 5 e 2 ok lo è però ammettiamo che il vostro denominatore scomposto in fattori facciamo che adesso io non la sto a fare la scomposizione in fattori magari la scomposizione in fattori del denominatore è una cosa del genere quindi il mio denominatore contiene come potenze nella sua scomposizione è solo dei 2 o dei 5 allora questa è una frazione decimale perché perché io posso moltiplicare sopra e sotto per 5 alla seconda perché ho scelto 5 alla seconda perché se voi guardate 2 alla terza vuol dire che avete 2 per 2 per 2 5 alla prima avete un 5 questo 2 e questo 5 si accoppiano e diventano 10 cosa mi manca per avere altri 2 e 10 2 e 5 5 alla prima 5 alla terza per pareggiare il numero dei 5 al numero dei 2 me ne servono 2 quindi io farò questo conto quanto fa 21 per 25 5 alla seconda fa 25 ma al denominatore avrò sicuramente un bel 10 alla terza perché 2 alla terza per 5 alla terza proprietà delle potenze 2 alla terza per 5 alla terza è come dire 2 per 5 alla terza quindi faccio questo conto e poi sposto la mia virgola di tre posti quindi per essere frazione decimale il denominatore dovete avere solo delle potenze o di 2 o di 5 o di entrambe le cose ovviamente se voi scomponendo il denominatore vi trovate che il vostro denominatore è 5 alla terza va bene basta che io moltiplico sopra e sotto per 2 alla terza sotto diventerà sempre il vostro 10 alla terza sopra diventerà 8 per 7 8 per 7 cosa fa 8 per 7 56 millesimi sposto la virgola di tre posti quindi sarà 1 2 e 3 quindi sarà uno 0,056 ok quindi o potenze solo di 5 o potenze solo di 2 o potenze di 2 e 5 se invece al denominatore vi trovate che nella scomposizione del denominatore vi trovate magari dei 2 magari dei 5 però poi trovate un oggetto che non è né 2 né 5 un oggetto che non ci piace tipo tipo 7 allora questa qui sicuramente non sarà ridotta a frazione decimale perché per quante volte voi possiate moltiplicare per 5 pareggiare queste qui diventerà sempre un 10 per 7 10 per 7 non è una potenza di 10 è un multiplo di 10 1000 per 7 farà 7000 7000 7000 non è una potenza di 10 è un multiplo di 10 e quindi tutto questo ragionamento ovviamente non lo si può fare quindi le frazioni che contengono 10 100 1000 sono già dispersate frazioni decimali e sono tramutabili in numero finito con la virgola le frazioni che contengono o solo il 5 o solo il 2 o le potenze di 5 o le potenze di 2 sono frazioni decimali le frazioni a cui denominatore scomposto di fattori contiene solo potenze di 2 potenze di 5 è una frazione decimale se invece nella scomposizione del denominatore compare qualche potenza diversa da 2 a 5 non sarà mai una frazione decimale cosa succede quando la vostra frazione non è decimale che sicuramente sarà tramutabile in un numero sicuramente periodico voi pensate per esempio di avere 2 settimi 2 settimi non è una frazione decimale cosa succede noi sappiamo che questa frazione vuol dire diviso alle elementari cosa vi hanno insegnato giustamente a fare a dire 7 nel 2 ci sta qualche volta no è uno 0 col riporto di 2 io voglio usare la virgola vuol dire che questi 2 in decimi diventano 20 queste unità se le consideriamo dei decimi diventano 20 decimi ok cioè per esempio 2 euro sono 200 centesimi giusto cioè quindi queste due unità trasformate in decimi diventano 20 faccio la divisione 7 diviso 20 cosa fa 714 e basta col riporto di 714 col riporto di 6 questi 6 sono decimi li trasformo in centesimi perché vado qua questi 6 decimi sono 60 decimi cioè 6 60 sarebbero 6 centesimi sono 60 decimi questa la divisione la scriverò qui nel posto dedicato ai centesimi cosa fa 60 diviso 7 7 per 7 49 7 per 8 56 con l'avanzo di 4 allora questa divisione non sarà infinita perché quando dividete per 7 i resti della divisione per 7 potrebbero essere l'1 il 2 il 3 il 4 il 5 e il 6 sicuramente non potrete avere resto 7 o superiore a 7 perché se c'è c'è resto 7 vorrebbe dire che ci stavo una volta di più col resto 0 e la stessa cosa resto 8 resto 9 resto 10 quindi i resti possibili sono questi qui quindi ammesso che mi vengano fuori a un certo punto tutti prima o poi la divisione tornerà da capo io infatti allora resto 2 mi è già capitato il resto 6 è già capitato il resto 4 è già capitato 7 nel 40 sta 5 volte 7 per 5 35 35 resto 5 anche questo è già successo a un certo punto mi dovranno solo capitare questi due si dice abbasso lo 0 non so metto lo 0 7 per 7 49 con il resto 1 tac questo ho già usato 7 nel 10 sta una volta con il resto 3 anche questo è già successo allora i resti li ho già toccati tutti l'1 il 2 il 3 il 4 il 5 il 6 e basta altri non ce ne posso essere vuol dire che quando metto qua lo 0 la divisione mi dovrà per forza ritornare ad avere un resto che ho già usato nello specifico 7 14 21 28 ci sta 4 volte con il resto 2 la divisione ricomincia esattamente da qua quindi ricominciando da qua è inutile che rifaccio tutta la menata metto lo 0 ci sta 2 volte con il resto di 6 la divisione ricomincia da qua quindi queste cifre tutte queste si ripeteranno all'infinito questo numero in periodico semplice formato il suo periodo ha dentro 1 2 3 4 5 6 cifre questo numero significa che è un 0 28 57 14 28 57 14 28 57 14 non ha e non è un numero finito si può studiare che quando il divisore è un numero che non contiene nella sua scomposizione nei 5 e nei 4 il periodo il numero periodico è un periodico semplice cioè il periodo inizia subito dalla prima cifra dopo la virgola se invece non so noi avessimo fatto 2 diviso 14 14 nella sua scomposizione 14 è un 7 per 2 quindi contiene una delle famose cifre che compongono il 10 quindi questo verrà per esempio nel farlo mi verrà un periodico misto cosa vuol dire che il periodo comincia non subito dopo la virgola ma è come se qui invece di venirmi il resto 2 mi fosse venuto il resto 4 il periodo sarebbe ricominciato da qua quindi ci sarebbe stato 0 28 poi 5714 ecco quando il divisore nella sua scomposizione contiene dei 2 dei 5 oltre a cifre sconosciute che non vanno bene viene avverrà fuori un periodico semplice quando invece è un numero proprio che non contiene 7 7 per 1 non contiene né 2 né 5 nella sua scomposizione è un periodico semplice però a noi questo ce ne frega poco sempre periodici sono quindi i numeri ricapitoliamo i numeri dov'è che sono finita allora i numeri che non sono di tipo di tipo finito quindi non sono frazioni le frazioni ovviamente se io ho un numero finito sicuramente lo potrete scrivere come frazione decimale perché basterà scriverlo senza la virgola col denominatore con un 1 seguito da tanti 0 quanti sono i numeri dietro la virgola se un numero non è finito non è decimale se è decimale è sicuramente finito se invece non è una frazione decimale sicuramente sarà un numero periodico quindi non ci sono altre possibilità se noi dobbiamo tramutare una frazione un numero razionale in un numero con la virgola verranno fuori o dei numeri finiti o dei numeri periodici o semplici o misti prossimo video invece vi spiego come fare le moltiplicazioni e le divisioni tra frazioni non ci sono non ci sono